Ma che buono? Ci stanno pescando, Nick. Siamo come dei toghi. Hai fatto una chiama le mappie? Che cosa si rifanno le mappie? Vuoi farmi credere? Che custode esiste? Ma certo che esisti, sono strade, autostrade, città, subab. Ma in realtà non esistono. Siamo in un'enorme attività di un regolamento. Tu hai coccato qualcuno dal posto. Giù. Giù mi ascolta.